Sono molto contento di essere qui stasera perché porto la testimonianza di una declarazione data da una amicizia di vecchia d'arte, una amica di vecchia d'arte, un'amicizia che vi lega a Raffaella Dolce, non nasce a Napoli tanti anni fa, semplicemente è una grande organizzazione internazionale che opera in Italia dal 1999, ha sempre avuto come obiettivo la protezione dell'interesse dei minori che oltre 100 anni fa grazie a un'illuminata e la donna inglese ha sviluppato la comunità in tutto il mondo. Qualche anno fa ci siamo interrogati seriamente sulla necessità, possibilità, opportunità e potere di iniziare ad operare nel nostro paese, ma quando ci siamo resi conto che oggi in Italia c'è più di un milione di bambini in uno stato di povertà assoluta e il 57% è il tasso di crescita della povertà sanitaria, la risposta è obbligatoria che bisogna intervenire, perché non è facile, non è una grande organizzazione tutta una serie di problemi. La povertà economica però non va mai da sola, è un fattore collegato alla povertà educativa, che forse è una forma meno invisibile ma altrettanto grave di povertà, e quella povertà è quel fenomeno che priva il minore delle sue opportunità di crescere, è quello che gli taglia le gambe da piccolo, quando un bambino non ha la possibilità di ricevere un'educazione all'altezza. Il numero di bambini che in Italia non legge un libro, non ha mai letto un libro impressionante, così come quello di uno dei bambini che non è mai andato al cinema. Provate per un attimo ad immaginare come sarebbe la vostra vita oggi se voi non avresti avuto un'educazione di qualità, se voi non avresti avuto spazio per giocare, libri su quali fa scorrere la vostra immaginazione o film che hanno ispirato le vostre azioni. E quindi il 17 interna ha deciso di lanciare un programma ambizioso, difficile ma affascinante, si chiama Illuminiamo il futuro. Vogliamo aprire 30 centri in tutta Italia, con il primo anno ne abbiamo già aperti 16, di contrasto alla povertà educativa, con due forme di intervento, una più generale. Cioè vogliamo dare ai minori che vengono dai nostri centri un supporto educativo, quindi dal passo in futuro scuola alle attività ricreative, a forme di creatività di vario gruppo. E lavoriamo con una serie di organizzazioni locali, per esempio a un altro che lavoriamo con una realtà che si chiama il tappeto di Iqbal, che insegna ai ragazzi attività circensi. E non avete idea di come sia affascinante vedere quanto bene possa fare a questi ragazzi impegnarsi in un'attività ludico ricreativa. E poi abbiamo provato una forma di intervento puntuale, diretta, una notte educativa. Cioè ci siamo interrogati sul bisogno a un certo punto di intervenire, per scloccare le situazioni individuali che non consentono ad un talento di emergere. Immaginate semplicemente se uno di quei ragazzi che stasera abbiamo studiato cantare non potesse pagare la retta per iscriversi al corso da loro, non avesse i soldi per comprare un pianoforte inizia razionale. Ecco, lì un intervento diretto che non è facile perché presuppone una forte consapevolezza e conoscenza del terreno locale, del tessuto sul quale interveniamo, però può far emergere il talento ed è questo quello che vogliamo fare. Allora, l'educativa fa male anche ai bambini perché spesso e volentieri disabitubili elementari sono causa di gravi mali. Noi sappiamo benissimo per esempio l'ubricità, che spesso è un frutto dell'ignoranza e di un'educazione alimentare con corretta. Fin dal giorno in cui noi abbiamo lanciato questo programma e lo interveniamo nel futuro, Raffaella Nocemo è stata al nostro fianco. Abbiamo innamorato una partnership affascinante e molti dei medici che fanno parte della società italiana hanno visitato i nostri punti luce. Per oggi abbiamo avuto oltre 4.500 bambini e hanno dato assistenza a medici sanitarie, hanno aiutato i corsi di formazione e igiene sanitaria. Ecco, io credo che questo sia una cosa di meraviglioso. Io credo che due realtà importanti, forti e radicate nella società italiana, l'ideatria e il state shield, possano davvero fare qualcosa lavorando bene insieme e a rendere il gusto evidente. E' quello dei nostri punti. Grazie. Grazie.